Delicte nell'area piccola, il pallone sul secondo palo, la mette dentro di Guain, Delicte! Ma Delicte in mezzo alla vinciata nell'area piccola, l'ho chiesto prima il suo gol, eccolo qua, eccolo qua il figlio prodigo! Io ho il vantaggio al 70esimo minuto con il suo difensore numero 4, Delicte! Avanti così, avanti così, sponda di Guain, e Delicte non sbaglia! Il vantaggio della Juve, il vantaggio della Juve con il più discusso, il più indicato, il meno convincente fino a questo momento, ma in questo momento sta decidendo il derby, non per un'entrata, non per una giocata da difensore, ma per una grande giocata da attaccante. Attenzione a quello che ha fatto, perché gliela stoppa letteralmente di piatto destro, Guain, si trova l'angolo con una giocata pazzesca e poi gli fa un assist che sembra facile, ma non è! L'80% del gol, perché glielo piazza con un piatto destro stupendo! Da caccio d'angolo, vero Francesco? Sì, da caccio d'angolo di destra, esatto!